Antonia Veroccai Inzardini, mia nonna, mentre sta sviluppando delle lastre. Questa è la casa di mia nonna, l'abitava qui con suo marito, e nel 1909 ottiene il permesso di mettere i vetri sul tetto per avere la luce, per fare meglio le foto di studio. Lo studio esisteva già dal 1898, ma faceva le foto fuori, per poter fare le foto bene in studio, quelle che tutti volevano, i costume, tutti seduti, con la nonna, con i nipoti, eccetera, ci voleva la luce, non esistevano i fari artificiali, e quindi ricavò questa cosa sul tetto per avere la luce. Qui per esempio sta stampando delle foto a contatto con le lastre, con la luce del sole. Non essendoci la luce artificiale, era troppo scarsa, le carte erano poco sensibili, si metteva sotto la carta sensibile, sopra la lastra, si lasciava al sole un tot di minuti, e poi si trattiva. Questa è la festa per il compleanno dell'imperatore Francesco Giuseppe, con lo sparo a salve, si vede il fumo dei fucili. Questo è prima della guerra, naturalmente. Lei era molto in gamba, molto sveglia, molto lucida, aveva già la grande pubblicità, in due lingue, camera scura, si sviluppano pellicole e lastre fotografiche. Questa è la prima pattuglia di italiani che entra a una cortina dopo 400 anni da quando l'impero austro-ungarico ci ha preso e ci ha fatto parte del suo impero. Eravamo sotto l'Austria dal 1513, quando sono arrivati loro come liberatori. non si capisce da chi ci dovessero liberare, visto che l'Italia è nata nel 1863-1862. 66? 60? 66. 66, ecco. Quindi voglio dire, non ci dovevano liberare proprio da nessuno. Questa è una foto che ha segnato anche il destino di Cortina. E lei vede passare la pattuglia inesorabile, scatta. Allora, al volo, era un po' sera, c'era poca luce e naturalmente non poteva usare la macchina da studio, quella grande con il telo, eccetera. Quindi prende una Foy Glender, una macchina piccola con tre obiettivi, uno per inquadrare e due facevano le foto stereoscopiche. Tutte queste foto sono tridimensionali. Se si guardano con l'apparecchio adatto, si vedono tridimensionali, perché era una macchina veloce e poteva scattare di fuori. Non solo, ma questa macchina aveva un furbissimo magazzino che teneva sei lastre, per cui lei poteva scattare una, fare così, scattarne un'altra e poteva farne sei in fila. Una macchina straordinaria che abbiamo ancora, abbiamo tutte le macchine... Oggi si chiamano raffiche. Non proprio, ma insomma con le macchine all'astre bisognava smontare tutto, rimettere il telo, apri, chiudi, passava... Bellissimo. Ecco, questa è la prima compagnia che entra a Cortina, due giorni dopo la prima pattuglia. Hanno visto che non c'erano nemici, non c'erano soldati, non c'erano austriaci e quindi vengono senza colpo ferire, come si diceva. Però quando scaricano gli zaini, uno la vede e lei in quel momento trema e si ferma il respiro perché era assolutamente vietato fotografare un'altra guida. Ah? Eh certo, c'erano i fotografi dell'esercito. Lei era nel suo laboratorio lì? Lei l'ha fatta dal balcone di casa, quello che avevo visto prima. Poi però prende coraggio, va giù e fotografa sempre la stessa compagnia, vediamo qui lo stesso asino, lo stesso mulo. che c'è qui, c'è anche nella foto qui sopra. E li fotografa da vicino, visto che loro non avevano obiettato niente, e prende il coraggio, va giù e li fotografa. E poi... li fotografa anche qui. il capitano, il cui nome è già stato ricostruito e tutto, il quale anche la lascia operare. E l'hanno lasciata scattare durante la guerra perché lei avendo il laboratorio, prestava il suo laboratorio ai fotografi dell'esercito che potevano sviluppare le foto. E lei ogni tanto qualcuna se ne stampava una coppia e la teneva. perché vedeva che qualcuno moriva di questi e chissà poi le foto non tornano a prenderle, che fine fanno. Morale, oggi abbiamo un archivio che va dal 1898 fino, diciamo, alle Olimpiadi e sono circa 20.000 immagini, la maggior parte su lastre, tutte scansionate, pulite, eccetera. è sempre un lavoro di diversità. Grande!